Sono Akira Flame e oggi siamo al Civi Comics, un piccolo evento a Cinisello Balsamo, molto molto carino, molto molto bello. Oggi è una bellissima giornata, ci sono bellissime persone e anche tanta musica, quindi spero che anche l'anno prossimo si ripeterà questa esperienza. E nulla, un bacione a tutti!